Ciao a tutti e benvenuti su Fabio Silver News. Io sono Fabio Silver e oggi parliamo di una questione davvero importante e attuale. Il Kansas ha citato in giudizio Pfizer, accusandola di aver ingannato il pubblico riguardo al vaccino Covid-19. Esamineremo insieme tutti i dettagli di questa vicenda e cosa significa per noi. Prima di iniziare però, vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, a lasciare un bel like se trovate interessante questo video, e a commentare qui sotto con le vostre opinioni e domande. Iniziamo subito. Il Kansas ha avviato un'azione legale contro Pfizer, accusando la compagnia di aver ingannato il pubblico riguardo al vaccino Covid-19, nascondendo i rischi associati e diffondendo informazioni false sulla sua efficacia. La causa è stata depositata presso il tribunale distrettuale della contea di Thomas, con lo Stato che sostiene che le presunte dichiarazioni ingannevoli del produttore farmaceutico, con sede a New York, violano il Kansas Consumer Protection Act. Lo Stato ha richiesto un risarcimento pecuniario non specificato. Pfizer ha fatto numerose dichiarazioni fuorvianti per ingannare il pubblico sul suo vaccino in un momento in cui gli americani avevano bisogno della verità, ha affermato il procuratore generale del Kansas, Chris Kobach, in una dichiarazione. Gli effetti collaterali. Secondo l'accusa, fin dall'inizio del 2021, subito dopo il lancio del vaccino, Pfizer avrebbe nascosto prove che l'iniezione poteva comportare complicazioni della gravidanza, come aborti spontanei, oltre a problemi cardiaci, inclusi miocardite e pericardite. Pfizer ha risposto alle accuse affermando che le dichiarazioni riguardanti il suo vaccino Covid-19 sono state accurate e basate sulla scienza, ritenendo che la causa non avesse alcun merito. La Food and Drug Administration, FDA degli Stati Uniti, nel giugno 2021 ha aggiunto un avvertimento sull'etichetta del vaccino in merito a miocardite e pericardite, precisando che questi effetti collaterali sono rari e si verificano più spesso negli adolescenti e nei giovani uomini. Inoltre, una revisione del 2023 di 21 studi condotti dal National Institutes of Health et statunitense ha concluso che i vaccini Covid non sono collegati all'aborto spontaneo. Dichiarazioni sull'efficacia. Il Kansas accusa anche Pfizer di aver mentito riguardo alla capacità del vaccino, sviluppato in collaborazione con il partner tedesco BioNTech per il ceppo originale del virus, di mantenere un'elevata efficacia contro le varianti mutate del virus e di prevenire non solo la malattia, ma anche la trasmissione del virus. La causa sostiene che Pfizer ha fuorviato il pubblico sulle capacità del vaccino di fornire una protezione completa contro le varianti emergenti del Covid-19. Altri casi simili. L'anno scorso il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha avviato una causa simile contro Pfizer, che è ancora pendente. Anche in quel caso, Pfizer ha respinto le accuse definendole infondate. La situazione legale in Kansas e Texas riflette un crescente scetticismo e una domanda di maggiore trasparenza e responsabilità da parte dei produttori di vaccini durante la pandemia di Covid-19. Questa causa rappresenta un capitolo significativo nelle dispute legali riguardanti i vaccini Covid-19, evidenziando la tensione tra le autorità statali e le grandi aziende farmaceutiche sui temi della sicurezza e della comunicazione pubblica dei rischi associati ai vaccini. E siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che l'argomento vi abbia interessato e che abbiate trovato utili le informazioni sulla causa del Kansas contro Pfizer. Se avete domande o volete condividere le vostre opinioni, scrivetele nei commenti qui sotto. Sarò felice di leggerle e rispondere. Non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi aggiornamenti e approfondimenti su Fabio Silver News. Grazie per aver guardato. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.